il tumore il nostro appunto 1.100 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 2.100 2.100 2.100 3.100 3 3.100 4.100 2.100 4.100 4.12 4.100 non c'è un'altra cosa ma veramente i cogliardi ma non c'è un po' di scuola ma oggi doveva disperare di scuola scuola ma non c'è solo Eusebio solo Eusebio Eusebio è Eusebio è basso è basso ah che uso Erois poi altri se nei pacchetti trovo pure qualcosa di decente tipo un altro server si perchè non posso invitarlo si manda questo invito a Claude eh che guarda come fammi guarda come fammi guarda come fammi mi fa vedere solo quelli offline se lo fa buona la storia vada dei mitatori d io ma dobbiamo fare la discarda ciò del giappine fifa metto in palio sebbio a mamma no 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 con le cambiabili chiamato no 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 non lo faccio guarda però a questo punto metto non è cambiabile metto a Kimmich ah ma mi invitava ma guarda quando è invitato non è arrivato niente non è arrivato niente con un'amica secondo me se racconta un tanto buono un piccolo sì c questo è stato portato a tentare di tutti perché l'ultimo del bar che è un documento ultimane faccia un bacio proprio io allo fatto gioco che bravo a invitarmi dove di se mi arriva partita classica non è nido no mi ha detto mi rendito min alcoli e come rio percorso non percorso Non c'è il cosonello. C'è la fine cosa? S'amiettile offline. Mi c'è questo? S'amiettile offline. No, no, mi c'è? Sì. S'amiettile offline. Prego a scegliere. Ma se rientra e la FIFA. S'amiettile, s'amiettile. S'amiettile offline. Offline. Scusa. Oooo. O' di cui ti lascia? Vai. Se non mi muove. Perché però me lo portai sempre accaduto così. Scusa. 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 Non ho avuto. Non ho avuto. Vincere. 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 Vedi, se mi… se ti esco. Vincere. Mettere. Aspetta. Vediamo. Vincere. 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 allora era passato eccessivo vedi se mi esce se ti esco ma è solo con me provami da fare qualcun altro c'è di buono domani sa tutta la prima fila la seconda solo immobile luisa alberto c'è non vorrei un imbosso un po' tramite la tua numero di rios perché voi ti fanno di cui non lo so su ciò che ho fatto ma che cosa non l'aiorban non lo so non l'aiorba qua il non l'aiorba qua non l'aiorba la non è mai granato ma come ho? ma qui ti eschi? no books persino a basso ho mai fatto voluto però l'invito di fifa adesso il risultato eccesso è riprovato pure tu l'ho pure tu l'ho mi entra no? no no ho un intervento ma tu vai siamo amichevoli tu vai siamo amichevoli no ma vado a prendere è quando hai cercato l'amico no? è scritto delle grandi ubicasi piccoli si bu bu a me mi piace che l'audio il video darsi che si sbalga se non giocate voi a me ci va con l'invito ma io prima ci trovate occhi scarse della liga scarsa del mondo provo l'ultima volta a vedere se ci sta ma perchè a me non capisco perchè ti fa vedere se vuoi il flan eh non lo so da inizio vipo gli altri vipo andato vai piano vai piano ma non capisco se non mi piace e non so se non l'ai la è venuto il gana 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 Oh Non, non patezza Oh no, non, non, non Mi scherzo è davvero l'anno che covardo il giudatore il pietro però che eravamo non c'è un po' l'italiano e ci hanno detto 1 il pubblico di cittadini ok dimostra io li ho provo con dei centi e percivistano io ora vittorio a fare tra le parti si vuole un video va bene se ne guardo commenta sulla live si dove si vincendo con la storia ma tu che dimmi c'è la fascia destra? Idris no che ti senti cosa che hai fatto? non ti senti cosa che hai fatto? non ti sento qualcosa un pochino bocchino attivano se l'altra cosa vediamo oggi vediamo se la partita contro che sarà di nuovo baggata com'è un soldo un po' l'ultimo è l'ultimo va bene va bene è una fortissima commenta qua no ma 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 leone la foto profilo di claudio si la marea ok ma un canale no non c'è la la prima volta che incontro i tristi contro no la seconda ma è un'altra ma è un'altra ma è un'altra non c'è la cosa la cosa è un'altra cosa la cosa è che la tt e la cdc 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 tiri e y la cdc se carreации la cdc o 11 per casa per si si vede rissi con questa fascia fatti dei s è forte ora tiene pochissimi intercettazioni per un sacco di passaggi un pochissimi intercettazioni per un pochissimi intercettazioni per un pochissimi intercettazioni un pochissimi intercettazioni per un pochissimi intercettazioni per un pochissimi intercettazioni a cosa quando se te lo città mi sembra tu no me c'è metterla tua ma fuori io credo la valla ho fatto proprio l'animazione che glielo ha tolto ho capito il gol ho preso oh ma si basatevi sempre i gol si basa ieri ma tu vedi dove è indirizzato? no ovviamente dicono che si vede la faccia dai non riesco a capire perchè siamo fosti io non ci mai capisco non capisco che volta devo farmi spiegare da vicino però penso di sì perchè a me me le parano un sacco quando non ho sposto la palla come si butta da casa ah vuoi raccobberto sulla testa forse ho fatto ah fatto una bella istruzione su basso non so dov'è ai tristi però la buttano u tanto capito il successo no no mi è tristi cosa sta facendo sta partita no mi è tristi sta partita mh infatti non mi tragi e soldi no boh però io la sto passando proprio no no ma c'è qualche spettatura a parte me non so ho sono l'unico 2 ah 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 I wanna let you go Cargando juice Cargando Non si contro questo Non è per upso questo La fa sempre Ho messo anche la X-Mer Però non vogliamo incertare un bel voltio no no ma vai che riesco wow ma ancora mi piace facciate wow che ti rimanio ma ora mi trova bene questa squadra, ti riesco a gestire bene il cio Forte Ciao a Roi Oh C'è la dura cross Cross è forte Però me la rallentava molto Toverlandez è più Agile E' più corto Madonna Ci sta Ci sta Quale 3 No ho sbagliato Sbagliato 1v1 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 Che cazzo 2v1 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 1v1 2v1 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 3v1 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 2v1 4v1 3v1 5v1 4v1 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 5v1 4v1 5v1 5v1 6v1 5v1 5v1 guardi ma io non vincere di fisico però cioè capite che è Royce se non manco con chi le sa deve mettere di vincere di fisico sono fisico dell'alice salato l'alice salato l'alice salato no no ma poi siamo virali guardi come non asperterà bene che cazzo fa penso che tornassi dietro oh ecco che se non ne vi sova più dai ho fatto mezzo e suzio l'assurzione su sto gioco vinci da partire nooo è data mezz'ora prima vedo l'ora di vendere la taglia picco no se non si può sapermi ma è vero è tutto un po' da dire che domani mi sono agli amico tozzi 108 8 15 no 110 non c'è proprio il portiere rimane si riprende no vincito se ci riesco ci sto però sembri che sta fare questa partita davvero ma non è vero ma non è vero vincito mi conti ma non so che parola questa partita 3 spettatori per la città avanti che tenta nel microfono qua si si a a va bene come ho imparato a parte sto merda ma vuoi che sta scema m m m m m ma il primo gol come non ci vedo brutto c'è un portiere armale con l'amera la bella ho fatto segnale che aveva sbagliato secondo gol lo so se è vero il terzo gol ma vuoi il terzo gol lo vediamo in tutti i costi si si però prima e secondo con un portiere migliore potersi oh dio c'è il primo pezzo sicuro il primo c'è meno tanto perchè quella è il bug del primo palo sui corner così di soldi o si mi insegno a quanto l'ho mandato invece si si mmm che mi 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 se la vinco io no sono vincitoso ma non lo fare subito no ma non è il cambio cambio di l'istruzione qua perchè mi avevo messo i grissi tagli dentro infatti mi gioca a centrompo si taglia dentro e disse buono e no mi gioca a centrompo non so perché però mi gioca a centrompo non faccio l'azienda con l'articolo ammundo ma la scuola se devi fare con me ce la palla così la prima subito no non si scemo no wow era una bombata girano allenatore che cazzo fai con stamano no 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 Sì. ma anche che cazzo lo fa ma che cazzo volevo fare e a buona però insomma non mi può tenere di fisica e velocità i terissimi non è un campione e se rimaneva pareto sto scemo ma che cazzo perché devi farlo questo è come una presa Royce non ho bravato lo sinistro è drissi non like quando andiamo a fare quel disistro chi mi dice chi mi dice che ci stavate ma comunque quando mantieni l1 controlla è più probabile che le vinci non fa l'appareggio fa passare il sublato del paradotto ok ma io tengo il vizio no devo spazzarlo invece la passa tu li ha passi sempre una spazzamata non vogliamo era vero va bene va bene campione eh già ero piccino anno però oh è sciopera eh già vai giù ma guarda se lo fa sulle salite fa staro piccino mamma cosa era per i dritti da solo si fa tutti i droghi tutti i droghi proprio credo fuori ciò mi si apporto eh vabbia ma guarda che era buono so io che mi sono spostato i dieci metri con i dritti no da chi la fa il suo gesù cristo l'unica cosa è che potevo farlo ma ci preghiere ci preghiere guarda che stanno ah ci vuoi ci fa avvio andetemi faccio eeeh vabbè mi va周pi quando venisce prima fa più il cuffietto avvio andetemi che cazzo vabbè pianti ssi E' un'altra cosa. chi è? ecco io ma il pretero è già stato dormendo come lo faccio? è perché stai andando a scuola e grida la mattina va bene ma vai dentro? si ha fatto due lezioni oggi è già andato a fare il giro con la panda è pure in marcia un po' di altro ho fatto 10 km di prima una busta no mi tra l'altro e falle è pure a me mi dovrebbe fare tutto e via no? eh si botte c'è pure quello che è chiappato no a parte la connessione va meglio una mattina che la non lo sapevo che scarica di rimbo eh lo so non è vero eh guarda non scatta nessuno eh la buona giustamente ti aspetti dai che scatta ma quanto ma? ma quanto mi sto mangiando? no no che cazzetto no no che cazzetto ma se domani mi esce un bel terzino destro no 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 ma l'ho butto a destra chi ci sta il terzino destro forte? due del terzino carvalo 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 ah boh ti è ancora il rigore non lo posso metterlo carvalo diventa il più forte del gioco ma dove ci sta se riesce tanto sicuramente gli attaccanti non li troveremo non ho anche ce ne ho capito ma ma c'è un attaccante immobile le dimensioni centrali chi ci sta forte? le dimensioni centrali hanno visto il pacco di Hummels secondo me Sommer Hummels e immobile garantiti anche Luis Alberto eh West Luis Alberto eh beh ovvio ma svegli qua non ti ho capito di resta questo gioco di merda non ti ho capito di resta questo gioco di merda ma te adesso sta salendo troppo a sguardo? non capisco di questo gioco di merda questo è pieno di gioco di merda dico di passare una vass ma quando è così mi accusa troppo a sguardo quando premo x non la posso però è subito di erguido ma è forte o no? che cazzo quando sta Royce? oh da te o no? ho fatto pure il pello non ho voluto come esce ma ma sto Fernando è molto più forte di Grosso secondo me mi chiedeci qua metano mi attacco il king dei contrasti ma è una bella idea ah boh se lo fai lo sembio ci sta di più di che se lo fa una bella idea ah ma devi prendere un po' ah boh nooo guarda no no mamma mia ma no dai io ci metto ma lo devo pure mettere ma vabbè no a me piace di pensare come si è trovato me c'è il king di manolasio si è un po' tutto pifo però è difficile di ebbritare è difficile di ebbritare lazza ci metto direi cosa è del napoli erro no che gli batte tutto erro muo' ha stumeretto comunque ci si prova ci si prova c'è una parata stupida la fa sembrare difficilissimo ma però contro Nicola dove c'è c'è il suo raro buonanotte centrali però non è che Nicola aveva tirato bene che se la piazza un po' di più non la prende ma che cazzo sono uscito a segnarlo a questo colaxi di me Eusebio cartina la seconda 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 la centralità guarda 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 la seconda la seconda Voi entrare, allò Noi spero Vamo andare a vedere Ecco No ancora non Ecco Ma sai che facevo un passo No però ti ho marcato bene di passaggio Eh aspetta, tu hai dato la parola eh Dove? Ma però là è già andato bene quando La quando L'ho ripetuto con Kimmich Capito? Tu stai ripartendo Eh Hai visto con la palla centrale per Kimmich Vedo l'ho marcato niente di passaggio Te la davi alta La prima Ma non so io conto di dirmi trovo bene E' anche conto di dirmi, ecco Ah, conto di dirmi trovo la no, eh No scopo qua ci va Ah Buogno non c'ha il suo Eh 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 Mi ce n'ho che di começola Ma tra Nicola Qua qua io quando c'ho那我們 di colla e Ma dobbiamo Ma riesco a attaccare bene Ma Ehm c'è quello che c'è di pesi, quello che c'è di pesa, è meglio non c'è tanti passaggi, vado in crisi ah boh, lui gioca a comprare pallone guarda fammi andare a vicino a seconda se mi c'è alza 60k va boh, lascio a comprare non lo so va a ho il bisogno ma è un s Elizabeth mi cace che hai asci gonna levare Ma sa, adesso deh, non dice ma che è un sessione sera kinda sa questo è un sessione binati далеко sempre ho spazz замечato non ci posso spazzarti che la mia carta faceva schifo ah, mi c'è stato pure di meno di 65 i botoni c'è ancora di più dopo di mattina allora se mi prendo crediti di divisa rival chi vuole sui premi ma ora sono 45k due pacchetti 35.000 crediti mega pacchetto raro wow, ora è tua pep mi si affaura pure pep wow, però non mi dà che tu adamo è troppo adesso 19 vittorie, è proprio brutta eh, io non ho fatto due settimane di filo bisogna vittorie però sei 19 vittorie beh, è brutta pure paolo cosa sa per fare 16 tanti piccoli, ora 1 euro e 2 sono uguali la differenza è che sono due pacchetti da 100k e 15k in più fuoriclasse 3 mi ha fatto i miei risultati e te tu 19 io 18 parlo 17 parlo 17 parlo 17 parlo 17 parlo 17 sono un benzo la cava cese sono un benzo la cava cese buo, io euro 2 l'ho fatto su 4 ving in the league due volte poi una euro 3 e una al 101 ma quest'anno eh hai fatto 2 ma non hai fatto euro 2 eh sì sì ecco la prima euro 3 però io invece questa da quando ho cominciato ho fatto la prima euro 2 la seconda euro 3 la terza euro 3 16 16 la quarta euro 19 la quarta euro 19 la quarta euro 19 la sesta euro 18 e la settima euro 18 ma c'è io ho faccio ho nel pieno ho faccio 16 la disegno ma desegni 76 partite 2 gol 10 assist o ma desegno perfetto 83 trova lontano 2 pesi sembra di ora 2 3 4 ma schifo solo nelle cose offensive vabbè è quello il difenso centro però passaggio puri passaggio per assaggio corto 81 passaggio lungo 78 alla fine deve solo appaggiare ma non ha già tozziti nel passaggio corto 90 eh sì però c'ha visione pochissima i passaggi lunghi comunque li sbaglia guai hai l'ho buttato nella sfida del passaggio corto 99 passaggio lungo 99 però visione 35 io andiamo ieri forza pure 98 le volte ho il 781 passaggio eh no 70 passaggio lungo 88 wow oh ma meccano passaggio corto 99 visione 78 beh no mamma Nicolo facessi fuc ma questo Fernandez è troppo bellino ma ce l'ho passata con mio occo è pre agile capi? però vabbè essendo un po' l'ibrido non è un po' l'ibrido con una lacuna e poi metto con cc argentino a casa palatios se hai messo la bunda e si fa pure la cosa fa si sa che sia un'altra lacuna cc e poi entra i trissi a 5 dove ti ricordi di tenere qua tu bu all'ultimo ho fatto si ho fatto un bel assist poi c'ha caratteristiche classe tirò da fuori, tirò di esterno, tirò di esterno i trissi io mi insegna sempre esterno è vero, credo che assiste, credo di esterno fuori da fuori pure dribblatore tecnico qua non ho messo david ah però posso usare super sub forti ho imparato 5 partite, 5 pollici oggi ho provato lo sobbio che sono le caratteristiche ti è classe, tiro da fuori, tiro da fuori, tiro da fuori veloce la squadra è giocata forte ben figa, 614 partite, 638 gol non ho messo poi nel new jersey las vegas, toronto ma quando è nato adesso? al 1973 giocavo, quindi è morto probabilmente è nato nel 42, ti è nell'età di... 78 anni ti? socrates è morto, lo so per certo è morto? si no, ma c'è cosa chiamo socrates, c'è una barba che ne capisci tu dai 16 anni uo, adesso lì è la stessa giornata di mio padre quando? a 7 settembre io mi ricordo di Ronaldo, no non mi ricordo che è nato, mentre l'ultimo 16 febbraio uo, so che resti il 19 febbraio ah, vicino, vicino andiamo a Sterling del PIR è nato la stessa giornata 8 dicembre del PIR ha uno guardi, del PIR è nel middolo 9 11 del PIR 14... 14 gennaio del PIR guardi, del PIR un momento proprio è messo a... ah, boh, 900.000 guardi, non è scorsi ma tu lo tenivo via del PIR? si, lo tenivo via, era fortissimo un fenomeno infatti, del PIR è nato... 9 novembre 74 ma pure dell'anno nascita di mio padre no, lo stesso giorno è mio compleanno e lo hanno... no che credere, no gherincia a momenti per me come l'anno non iniziamo il momento prime non mi like oh e dovresti vendita il brano eusebio moment prime ovvio sto eccolo eusebio moment prime 11 milioni di crediti c'è di maria 14 ebbraio 11 milioni di crediti odo di nemmeno passaggio del mio e se abbiamo un momento grande nemmeno passaggio del mio ma il baby è quello lavoro il baby for il più scorso del servio è il 93 non sarebbe è il prime il più forte è il prime è il baby perché è quello più veloce quanto? oh questo è il 96 è il 99 no il 99 94 ah buo è forte il 99 di tiro al 97 velocità il 97 velocità anche te è il fenomeno momento prime no non ci sta nemmeno sul mercato no ma c'era un 2b nel tempo ah 95 c'era un 2b nel momento c'era un 2b nel momento però che non c'è stato sul mercato un 2b nel momento prime eh lo so oh volesse accattare un 2b nel tempo non passa il baby ma questo qua deve partire 7 gol dai invece il baby quanto passa quanto il meglio ma fa schifo per me no ma di più io domenici per provare a fare il loro 1 sbaglio della cosa cioè senza portiere non è 4b non è 4b comunque 720 partite 730 gol 1400 partite 1300 gol 0 e questo ho fatto 20 partite ho fatto 2 2 partite ma facciola da partito no a buon utile me la faccio ho pò ti faccio la cimriona cioè ci che se vince vado ci facciamo la bella domani dove vado 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 lo vado gesto se c'è non c'è altro ne proviamo no, magari magari un bel picchione 99 vabbè scegliamo ciao ciao